Ciao ragazzi, ciao, benvenuti, benvenuti e bentornati, ciao amici! È da tanto tempo che volevamo fare questa cosa, ma poi per un cazzo o un mazzo non ce l'avamo mai trovati. Ci siamo visti a una fiera di recente, una delle prime fiere che hanno riaperto post-cataclisma mondiale, e allora ho pensato di invitarlo oggi qui con noi, ed è il secondo doppiatore effettivamente che viene su questo canale dopo Pino Insegno. In un certo senso però quello che ha doppiato ci riguarda maggiormente, più in topic con questo canale, perché finalmente insieme a noi c'è Gianluca Iacono. Ciao, ciao, ciao! Eccomi qua, eccomi qua, eccomi qua, non sono un fantasma, devo attivare la camera anche qua. Ciao, come stai Gianluca? Bene, 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 ok, ci sono, perfetto. Ciao, ciao a te, e finalmente come si diceva, yeah, ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. È da tanto tempo che volevo fare una chiacchiera con te, anche se ho visto molte interviste, molti contenuti che hai fatto anche con altri miei colleghi, penso per esempio a Maurizio Merluzzo, che insomma è un nostro amico in comune, o penso anche a Mangaka, sei stato anche da Luca qualche tempo fa, se non erro, insomma, anche perché te diciamo che non sei proprio nuovo a queste piattaforme, anzi sei molto curioso, ci sguazzi su YouTube, su Twitch, hai sempre creato contenuti, non ti sei mai fermato al doppiaggio, anzi hai iniziato col teatro, insomma una lunghissima carriera. Ecco, ho visto da un'intervista che mi pare ti ha fatto Anime Click, che ti ha iniziato da giovanissimo a doppiare, tipo a 13-14 anni. Mi spieghi come hai fatto ad avvicinarti così presto al doppiaggio? Ma guarda, tu considera che negli anni 80 praticamente del doppiaggio non si sapeva niente, a meno che tu non fossi il figlio di un doppiatore, cosa che io non sono. Quindi io abitavo a Torino, non lo sapevo, ma volevo fare l'attore, perché poi quello è il punto di partenza, volevo fare l'attore, poi lo puoi fare per il cinema, per il teatro, per il doppiaggio, per la pubblicità, per mille cose. Andavo in giro per casa, registravo le cose sui registratori, è presente quelli degli anni 70-80, quindi tasto arancione, tasto rec play, quelli mangiacassette così, quindi registravo le cose, facevo le facce, facevo un po' di cose. E quindi mi hanno detto allora, psichiatra o qualcos'altro, e venne fuori qualcos'altro. Nel senso che poi anche una combinazione, insomma, ho conosciuto un'attrice che era in ospedale con mia madre, e quindi mia madre le ha detto di questa mia passione in qualche modo, quindi prima scuola di edizione e togliamogli questo accento da minchia sabri. Presente la litizia, cioè la minchia sabri. Sì, sì, me lo ricordo, minchia, trapassato. Torinese, figlio di veridionali, che parla, cioè capito, no, allora, così un po'. E quindi mi sono tolto questo accentaccio, facendo un corso di edizione a 12 anni, robusto, e da lì, insomma, è nata poi l'avventura, perché il mio insegnante di edizione, che era un attore, insomma, abbastanza addentro, in Rai, in altri posti, cercavano ragazzini per fare delle cose. C'erano le prime televisioni locali, allora, che mandavano contenuti, no? I primi film, telefilm, e quindi è cominciato. Poi sono andato a fare radiodrammi in Rai, ho fatto uno sceneggiato come attore, giovane, attore a 14 anni, ho fatto corsi di recitazione, ovviamente, quindi ho fatto anche moltissimo teatro, e il doppiaggio poi ha preso molto spazio, devo dire, negli anni. Però il teatro e il teatro cabaret, che ho fatto tantissimo negli anni 90, non l'ho mai abbandonato, soprattutto il teatro. Sei d'accordo con quelli che dicono che un doppiatore non può evitare di essere anche un attore, cioè è una cosa che va di pari passo, praticamente, ok? Assolutamente sì, infatti io insegno anche doppiaggio, e mi capita spesso di ritrovarmi magari persone che pensano che il doppiaggio sia molto più facile, ma semplicemente perché dici, cazzo, parlo tutti i giorni, potrò parlare anche davanti a un microfono. No, non funziona proprio così. E quindi è molto più complessa, insomma, bisogna imparare a educare la voce in un certo modo e a essere poi molto naturali al microfono, cosa che non è così semplice. No, mi affascina il fatto che, innanzitutto, te quando parli sei molto naturale, no? Ci sono invece persone che ostentano molto il doppiaggese, cioè, sì, ed è una cosa che io non ho mai capito, perché se sei nella vita di tutti i giorni... Io sì, ho parlato anche con Carlo Valli ed è stato il primo doppiatore che abbia mai incontrato nella mia vita. Era ospite con me, mi pare, in una scuola, Volterra. Mi giro e riconosco subito la voce perché è immortale. E faccio, Carlo... Però c'aveva, se non erro, non un forte accento romano, ma comunque si sentiva che era romano. E mi ha colpito subito che un doppiatore così, con una carriera decennale alle spalle, non ostentasse il suo essere un doppiatore. E te fa lo stesso, è molto bello, è una cosa molto naturale. Sono contento. Tra l'altro, pensa, ti faccio un esempio che accomuna poi un po' tutti noi, tutti voi. Poi, per esempio, a Milano, penso a uno come Mario Scarabelli, mitica voce del narratore di Dragon Ball, nonché del genere di tartarughe, Mario è uno di quelli che è in sala, bravissimo attore, eccetera, eccetera, quando esce... No, perché allora... Cioè, mette... Non esageriamo, però comunque lui, essendo milanese, ha delle cose, è proprio la parlata bella sempre. Sembra posseduto, praticamente. Dici, ma come cazzo? Vabbè, io perché ci sono cresciuto con l'addizione, quindi in realtà non ho un mio accento, perché c'ho quello lì di Minchia Sabri, non ce l'ho più, e quindi non ho un'identità da questo punto di vista, però... Vabbè. Mi affascina il fatto che te da ragazzino già ti fossi focussato sul diventare doppiatore sul... Immagino che per un ragazzino poi l'addizione sia un incubo, perché penso che sia una roba molto difficile. Io, se mi levassero il Toscano, probabilmente mi butterei giù da un balcone. No, ma per me è bellissimo il Toscano. Secondo me tenerlo... Guarda, ho fatto adesso un workshop di doppiaggio a Perugia, no? Questo fine settimana. E il Perugino, che ovviamente io mi illudevo nella mia ingenuità, che fosse intanto più simile al Toscano, ma nì, nel senso che non è proprio così. Perché dipende poi in quale parte dell'Umbria sei. Certo. E poi ho scoperto che l'Umbro non ha la S sonora. Qual è la S sonora? Quella di rosa. Cioè l'Umbro non dice rosa, dice rosa. Dice casa, dice che ne so. Tutte le S, non esiste la Z, no? E quindi ho detto no. Sono rimasto molto colpito. Per cui appunto, secondo me, la lingua regionale, l'accento, eccetera, vanno tenuti assolutamente perché sono una figata. Però riuscire, poi se uno vuole ovviamente studiare, eccetera, riuscire a parlare anche in un italiano bello, corrente, fluente, con gli accenti che non sono regionalistici, è una roba in più che se fai l'attore, certo, è da fare. Eh sì, però, vabbè, dalla nostra generazione, perché io sono del 90, quindi proprio preciso preciso, chiaramente te sei rimasto nella storia e sei un doppiatore emblematico per un tuo personaggio storico che è Roy Mustang di Fullmetal Alchemist. No, vabbè, comunque... No, no, anche... Lo sapevo che dicevi. No, Roy Mustang effettivamente è un altro personaggio che tutti spesso dimenticano, però è importantissimo nella nostra storia di Fullmetal Alchemist ed è un gran personaggio. Però effettivamente Vegeta, insomma, Vegeta di Dragon Ball è un personaggio iconico ed è effettivamente un personaggio che è rimasto anche grazie, anzi, diciamo soprattutto, grazie alla tua voce, in Italia un personaggio adorato e amato ancora da moltissime generazioni. È stato il tuo primo anime doppiato oppure avevi fatto qualcosina prima? No, avevo doppiato intanto prima di Vegeta in Dragon Ball, pochi lo sanno, ma doppiai. All'inizio uno del Fiocco Rosso, ma me lo sono ricordato da poco, e poi doppiai Tamborin, che era della famiglia dei demoni, insomma. Del grande mago piccolo, alzatan, via insomma, capiamo. Eh, dei lucertoloni, e facevo questo Tamborin che parlava con la voce così. Di Tamburello, non me lo ricordavo. Tamburello, bravo, bravo, Tamburello. Cioè, come non mi avresti mai potuto beccare, perché ovviamente ho questa voce un po' scatarrante. Prima, il primo anime che ho fatto è stato Nevius in Sailor Moon, un altro cattivo, molto bello, molto figo, che muore sotto un albero, mentre Sailor Moon piange in questa scena drammatica. Quindi è stato quello il primo anime in assoluto. Sailor Moon. È perché io ho tutto confuso, perché per me la fascia cartoni di Mediaset è tutto una grande pappa, no? Quindi mi sconfondo un po' gli anni. Però sì, effettivamente c'erano questi ruoli prima. Ed è molto emozionante, anche perché hai fatto un grandissimo tributo a Paolo Torrisi sul tuo canale YouTube. È molto bello sentire il tuo racconto, perché finalmente siamo riusciti, in un certo senso, anche perché Alessandra Valeria Manera non rilascia interviste praticamente. È molto bello sentire dalla vostra viva voce la storia dall'interno, no? In prima persona, di com'è andato. Perché, ecco, ti voglio fare questa domanda. Nonostante Dragon Ball fosse già passato su reti locali, e voi sapevate che stavate doppiando un prodotto cult fondamentale? Cioè, te sapevi di Vegeta, di che importanza avrebbe avuto poi Vegeta nel corso della storia di Dragon Ball? Assolutamente no, perché mancava un elemento fondamentale che oggi invece è ovunque. La rete. Non c'era la rete. Stiamo parlando del 96, 97, insomma, quegli anni lì circa. Tu immagina che arrivava dal Giappone, che io sappia, insomma, in Merak, questi cassettoni beta che sono dei VHS molto grandi con dei copioni volta per volta nel tempo. Quindi tu non sapevi mai cosa c'era dopo, come finiva, se Vegeta era una comparsa, se io non sapevo niente, mai. Forse Thor, Santor Risi era quello che sapeva qualcosa in più sicuramente perché lui era il Deus Ex Machina di Dragon Ball. Lui era Dragon Ball, cioè proprio non era solo Goku, era Dragon Ball. Però io non sapevo niente anche quando mi diede Vegeta che mi disse boh, fai un po' che ti va di fare questo qua, che è arrivato con quest'area un po' pipiripipi, con quest'area un po' bassino, magrino, stronzetto. E ho detto, beh, ok. E feci appunto Vegeta senza sapere nulla e poi negli anni ho realizzato, cioè, che cosa avevo fatto? L'ho fatto me. Eh sì, sai che hai rischiato davvero di essere una comparsa perché Vegeta doveva morire lì, cioè la prima volta che combatte con Goku. E poi invece Toriyama ha detto, vabbè, vai, mettiamoci perché i fan lo adorano e quindi poi è diventato praticamente il co-protagonista. Toriyama non lo adora invece per cazzo, perché gli fa sempre passare le pere dell'inferno. Esatto, però è bello, no? Essere sempre un po' all'eterno secondo che ce la mette tutta, migliora, ma è figo. Ma sai che io apprezzo moltissimo il fatto, cioè, non capisco quelli che dicono tanto Vegeta perde sempre. Non è vero, perché come, ecco, per me Vegeta è paperino e Goku è topolino. Mettiamola così, no? Per cui, in realtà Vegeta è quello più vicino agli esseri umani di quanto lo sia Goku, perché rappresenta proprio la dualità, la lotta che abbiamo noi fra il bene e il male, fra il cadere, rialzarsi, di tutta una serie di elementi in cui secondo me tutti noi ci ritroviamo molto di più. Per quanto riguarda invece la tua carriera dopo Dragon Ball, a parte prima ti voglio chiedere una cosa che ti ho sempre voluto chiedere, non ti rompi il cazzo a sentire i fan che arrivano, oh mi fai un urlo, oh che ti trattano come un jukebox. Tantissimo, lo posso dire qua attaccato al micro, tantina ASMR, tantissimo. Ci starebbe un bel ASMR di tuo, sarebbe molto bello. perché poi Vegeta è un personaggio che diciamo come un po' tutti i personaggi di Dragon Ball urlano molto e poi te hai una voce veramente un ruggito e quindi immagino che fatica sia fargli le urla alla gente che te lo chiede, insomma poi l'urlo di Vegeta c'è un urlo terrificante. Lo faccio alle fiere, lo faccio solo alle fiere esclusivamente oppure a qualche capito amico che è proprio così ma in generale il mio rapporto con Vegeta guarda l'ho spiegato su YouTube se vi capita di andare sul mio canale ho fatto la serie Vegeta è morto e l'ho ucciso io. Che sta diventando uno spettacolo teatrale se non erro visto. Che diventerà uno spettacolo teatrale esatto. Sto lavorando con Frecht che è un autore di fumetti che insomma se in questo momento sta ascoltando la live ciao Frecht con cui stiamo lavorando per realizzare uno spettacolo teatrale in cui si parlerà non solo di Vegeta ma del mondo delle voci del rapporto con i personaggi del perché si viaggia sempre fra la psichiatria e l'arte cioè è un mondo complesso e facciamo vedere anche il mondo del doppiaggio. C'è stata una richiesta veramente terrificante cioè che volevi proprio sotterrarti? Ma guarda l'una che non volevo sotterrarmi ma che mi ha fatto molto ridere è stato non con Vegeta ma con Gordon Ramsay che è un altro personaggio che sul podio si colloca fra il secondo e il terzo posto con Marshall di A Meteor Mother una sera andai a fare delle letture a Voghera con la mia insomma ex compagna che è anche una collega Stefania Rusconi andiamo a fare queste letture e siamo andati a vedere insomma il posto un sopralluogo com'era e c'era una signora con degli altri insomma una donna con degli altri personaggi fra cui anche suo marito avevano bevuto un po' troppo ha saputo che era la voce di Gordon Ramsay è venuta da me anche un po' barcollando mi ha preso così e mi fa ti prego insultami dimmi e io ero così abbastanza basito da questa da questa roba con il marito lì e vabbè insomma non mi ricordo più come me la sono cavata ma poi mi sono divincolato da quella situazione però ti prego insultami capisci ma anche qualche volta con Vegeta forse qualcuno mi ha detto ti prego insultami però insomma entriamo poi nel privato no 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 sto scherzando questo non è vero ma è periodaccio per dire queste cose però però c'è da dire che sì ci sono molte persone attratte dalla voce perché insomma o hanno esperienze sono cresciuti con la tua voce oppure c'è proprio la perversione della voce c'è tantissimo quindi ti hai avuto veramente tanta tanta fortuna secondo me ma te però non sei mai stato appassionato di anime in realtà non sono appassionato di anime non lo ero assolutamente perché io comunque sono praticamente sono nato vent'anni prima precisi prima di te ok tu sei del settanta ok sono del settanta e quindi faccio parte di quella generazione a parte casi che poi ci sono per carità che è nata è cresciuta con Goldregg Grobo d'Acciaio Daitar un uomo tigre anche Kanshiro quello che vuoi i cosiddetti girellari li chiamiamo così ero un po' girellaro poi però capito arrivato a 19-20 anni quindi tipo nel 90 da lì poi ho iniziato a uscire a farmi poi i cazzi miei quindi stavo poco davanti alla televisione no e quindi lavoravo più che altro poi vabbè facevo teatro c'avevo un gruppo musicale infatti per un attimo ho detto faccio la rockstar o l'attore e poi mi è andata a finire come sapete per cui non seguivo tantissimo l'evoluzione degli anime soprattutto su Mediaset perché non poi aveva degli orari precisi quindi ero fuori casa non stavo dietro a tutto dopo quando poi c'è stato proprio l'avvicinamento con i fan le fiere i cosplay e quindi tutto un mondo che si è aperto e internet allora poi ho iniziato ad avere una serie di feedback da lì prima ho odiato Vegeta profondamente poi ho iniziato a avvicinarmici e a capire delle cose e adesso è odio amore con lui però degli anime li vedo cioè tipo che ne so a Takon Titans l'ho visto mi è piaciuto molto One Punch Man l'ho visto mi è piaciuto molto Death Note l'ho visto mi è piaciuto Demon Slayer l'ho visto perché tra l'altro ho doppiato anche da degli amici quindi insomma una serie di cose le ho viste e le seguo ti dico che Dragon Ball non l'ho mai visto tutto che cosa strana e beh ci sta lo so lo so non l'avrei mai detto cioè ci sta però non l'avrei mai detto però è un po' come dice Marshall a Teddy non l'ho mai detto per chi l'ha visto perché Ted devi capire che loro non l'hanno visto l'hanno vissuto quindi è un po' così Star Wars sì 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 è vero beh effettivamente te trasversalmente Dragon Ball Z te lo sei fatto tutto te lo sei doppiato tutto quindi sì e durante tutta questa carriera è stata lunghissima serie tv film animazione e tutto qual è l'aneddoto che ti ricordi con più affetto cioè qual è il momento in cui hai detto cazzo bello bellissimo questo lavoro è la cosa più bella che abbia mai fatto per ora c'è stato un momento così allora un momento non lo so dei momenti sicuramente sì diciamo che che ne so le volte in cui ho fatto per esempio alcuni personaggi in certi film soprattutto in cui mi sono emozionato molto io mentre lo facevo sono quei momenti in cui tu entri talmente dentro al personaggio e alla situazione ma anche in qualche scena di Vegeta che ti è successo in cui tu veramente non stai perché recitare non è non è una cosa finta alla fine almeno non lo è per me nel senso che io in quei secondi in quei minuti in cui sono lì io sono quella cosa lì cioè non è che io quando faccio Vegeta combatto davvero non è che non se tu mi guardi dici questo è pazzo perché mi metto nella posizione quindi sono stati dei momenti che ne so quando ho doppiato un bellissimo film che è un po' di nicchia ma si chiama This is England ambientato nella Birmingham degli anni 80 in cui facevano skinhead piuttosto che quando ho doppiato Joaquin Phoenix io sono qui insomma alcuni alcuni personaggi Heath Ledger in Ned Kelly in cui mi sono emozionato perché erano c'erano dei monologhi particolarmente potenti o delle cose che mi hanno lasciato delle cose ecco a proposito di Gordon Ramsay c'è una cosa che mi ha sempre incuriosito che però non ho mai approfondito quindi ne approfitto la differenza dello stile di doppiaggio se così si può chiamare perché chiaramente in un film c'è il labiale devi seguire l'interpretazione dell'attore nell'animazione devi seguire appunto il labiale o il lip sync soprattutto nell'animazione moderna mentre in Gordon Ramsay c'è questo doppiaggio stile documentaristico cioè che non va proprio perfettamente a tempo con i personaggi è quasi se fosse una voce fuori campo perché si fa questa scelta io non l'ho mai capito ho anche dei programmi tipo di D-Max sai queste robe un po' è un'ottima domanda la tua nel senso che tanti non lo sanno tu pensa che all'inizio anche solo 15 anni fa forse qualcosa in più prima dell'avvento dei reality veri e propri nei documentari tu sentivi prima l'inglese partiva poi la voce fuori campo e poi finiva l'inglese quindi fino un po' prima poi con l'avvento dei reality botta risposta botta risposta botta risposta insomma al stile anche delle robe alla grande fratello col confessionale perché c'è anche nel skitch eccetera e quindi da quel punto in poi si è deciso di iniziare a coprire sempre di più le battute però si è fatto un passo oltre nel senso che sia Sky sia Discovery e a seguire anche altri decisero di abbassare sempre di più l'originale e mantenere sempre più alto il volume dell'italiano cosa succede? che tipo nel skitch e nel masterchef tu l'inglese quasi non lo senti e sei costretto a coprire tutto assolutamente perché se no esopesci nell'acquario quindi è nato questo simil sink si chiama che è una roba che si avvicina molto al si tu devi partire con lui finire sempre con lui e coprire tutto ma non sei preciso all'interno capito? non copri tutto benissimo all'interno però se Gordon ride ride se Gordon fa io faccio eccetera eccetera e particolarità è che è l'unico prodotto in cui io lo faccio al volo vuol dire che quello che voi vedete io non è che me la guardo e poi la registro io la registro quindi che tu dici no perché potrebbe sembrare veramente una magia perché io a volte guardo da fuori e dico ma come faccio? non lo so perché leggo a prima vista so già cosa succederà e boh è una roba veramente folle che succede ma boh un po' mestiere non lo so ok ok io pensavo vabbè sarà una scelta così artistica non l'ho mai capito forse di risparmio anche di budget no esatto bravo è una scelta economica una scelta economica perché i reality comunque hanno tantissimi personaggi hanno meno budget quindi non c'è tempo di farli come i film e i telefilm eh no 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 poi la scelta di base e quella economica è sempre specifichiamolo perché eh sì sempre alla fine tantissime cose che vedete dite ma perché è fatta così perché magari l'hanno dato a uno che la faceva meno ma la faceva peggio cioè quindi come in tutti i lavori esiste questa cosa qui io ho visto molte interviste non solo a te ma anche altri doppiatori e quello che mi dici non è nuovo ma anche sui tempi mi hanno detto cioè mi hanno detto hanno detto nell'intervista che per il doppiaggio c'è sempre meno tempo cioè bisogna fare tutto e subito e invece prima c'era tutto un altro discorso ci si metteva lì ci si studiava bene la scena invece adesso devi andare anche un po' a tentoni quindi mi confermi questo trasversalmente giusto? sì in qualche modo sì perché anche lì la rete e la digitalizzazione di tutto ha portato dei vantaggi ma anche degli svantaggi perché poi ma in qualunque lavoro ormai vogliono le cose per ieri no? perché tanto col computer tanto lo fai tanto tanto e però fai tutto un po' un po' a culo insomma per cui ovviamente anche il doppiaggio arrivano le cose all'ultimo momento materiale all'ultimo momento dipende ovviamente non sempre però però è tutto abbastanza veloce e quindi va fatto tutto un po' troppo in fretta e la qualità ne risente quindi i traduttori devono correre gli adattatori devono correre in sala bisogna correre il mix deve essere fatto in fretta tutto in fretta ragazzi una volta c'erano dei tempi che erano visti oggi da preistoria da dinosauri quelli degli anni 90 80 però una cosa dico a tutti quelli che stanno ascoltando se ci sono degli errori come ci furono negli anni 90 in quello che dice il doppiatore non dipende dal doppiatore ah si bisogna fare sempre differenza tra adattamento e doppiaggio esatto quello che dicono non è che lo decido io no è chiaro ma molti confondono ancora effettivamente soprattutto quando si parla di Mediaset e di Dragon Ball si parla degli adattamenti un po' si può dire censurati un pochino edulcorati tipo vecchio filibustiera a Vegeta hanno fatto delle robe che nemmeno la minonna cioè veramente sei proprio un malandrino malandrino no ecco un malandrino anzi Carot malandrino poi invece di di uccidere o di ammazzare ce l'ha sempre è sparito se n'è andato è scomparso non si sa l'abbiamo eliminato non si poteva dire è morto che è una cosa che insomma che fa parte della vita no è stato eliminato come una partita a scacchi perché Carot al posto di Carot perché ricordava Cacca forse perché allora un pochino c'è questa cosa perché c'era questa all'inizio quando c'è stato secondo me un primo approccio al giapponese ci si è spaventati no perché ci sono dei nomi in giapponese Katsuo Cacamerda non lo so ci sono dei nomi assurdi in giapponese che in italiano suonano Cacamerda che suonano proprio come una roba pazzesca che per noi sono ovviamente una roba cacofonica piuttosto che offensiva e quindi alcuni con un atteggiamento secondo me un po' bigotto all'epoca hanno detto no perché se no poi i bambini e lì c'è il grande misunderstanding che gli anime e i cartoni sono per i bambini e lì è stato il grande errore perché non sono per i bambini e ancora oggi alcuni pensano che siano per i bambini quando no assolutamente no ci sono i target ora per fortuna con sai vari ricchi e morti boja corzman cioè serie per adulti fatti e finiti si sta un pochino diciamo che la rivoluzione è partita ben prima però peccato perché diciamo l'era mediaset l'era del me lo guardo in televisione a quell'ora è finita e quindi adesso è un po' più complesso però ora ci sono i videogiochi per esempio te hai avuto ti sei in mezzo comunque in questo mondo e quindi cosa ne pensi di questo nuovo perché ora addirittura prima vi mandavano anche lì le robe da leggere doppiavate e Bonauco ora invece si inizia anche lì a recitarle le scene cioè a mettersi in sala di doppiaggio e a andare proprio in lip sync con i personaggi che vediamo a schermo quindi anche lì è tutto cambiato insomma sì nei videogiochi intanto addirittura da quando non li doppiavo io e li doppio da forse bo 15 anni una cosa del genere ma prima ancora c'erano i doppiaggi abbastanza scandalosi perché erano presi molto sotto gamba i videogiochi e il vociato di videogiochi quindi quelli vecchi sono veramente insentibili alcuni ci sembrano fatti veramente dal mio vicino di casa poi negli anni è migliorato il livello a parte migliorata la grafica e tutto però considera che raramente noi vediamo le scene nel senso che che ne so in far cry 5 io ho fatto jacob seed questo psicopatico pazzesco e lì i cinematic le scene che poi tu vedi che sono i pezzettini infilmati quelli li doppiati a sync fortunatamente ma in generale noi doppiamo sulla forma d'onda quindi abbiamo la forma d'onda e andiamo a sync sulla forma d'onda ok quando si deve andare a sync quindi in realtà anche lì viaggiamo un po' al buio però ti do atto di questo che il livello si è decisamente alzato in generale quindi meno male so che c'è anche budget questa è una cosa buonissima perché può essere effettivamente una nuova industria per voi che insomma meglio che ci sia che non ci sia ecco tutto qua certo certo tra l'altro pensa che adesso questo fine settimana vado a Bolzano perché c'è questo ground zone che è un festival che hanno fatto del videogioco molto grande per tutta la città venerdì sera ho un incontro con un creatore di videogiochi in cui parleremo un po' di videogiochi doppiaggio eccetera e sabato pomeriggio il pubblico mi sfiderà a giocare a Dragon Ball Z in cui io sono una pippa ma con la forza dei Saiyan vincerò però bello perché probabilmente ti faranno doppiare mentre giochi oppure te ne sbattiranno probabilmente ma io li stordisco così visto che sono una pippa io gli faccio la voce di Vegeta così si distraggono si emozionano e perdono è l'unica mia arma una buona strategia assolutamente e invece c'è qualcosa che non è ancora fatto che vorresti fare nel tuo lavoro si nel senso che mi piacerebbe fare io ho fatto cioè cinema un po' l'ho fatto nel senso che ho fatto un po' di film indipendenti un po' di cose fighe però molto indipendenti molto di nicchia mi piacerebbe fare un bel personaggio in un bel film che visto un po' più mainstream insomma quindi quello mi piacerebbe perché il cinema tutte le volte che mi è capitato di farlo è una figata cioè come attore ovviamente mentre da un punto di vista di doppiaggio guarda sono abbastanza tutto sommato soddisfatto di tutte le cose che ho fatto quindi quando mi chiedono che personaggio vorresti fare forse mi piacerebbe fare o un Batman o un Joker che sono le due facce della stessa medaglia potessi doppiare Joker al cinema però un attore sarebbe fighissimo cioè mi piacerebbe un sacco perché Joker è un personaggio pazzesco bello sì è molto bello cioè secondo me anche un cattivo in generale di Batman su di te sarebbe veramente bello io spero invece un bel gioco di Dragon Ball doppiato quello sarebbe veramente il paradiso però mi sa che sai perché no perché la cosa che me l'hanno già chiesto anche altre volte no per il semplice fatto che purtroppo sarà banale ma è così la Namco Bandai come si chiama ogni volta che ha tirato fuori il gioco ho detto noi lo mettiamo in giapponese e in inglese se se lo comprano va bene così e se lo comprano tutti per cui alla fine loro giustamente dal loro punto di vista dicono ma a me chi me lo fa fare di far pagare il doppiaggio italiano spagnolo francese se tanto se lo comprano lo stesso così e questa è la triste ragione per cui credo che non verranno mai doppiati a meno che non arrivi un come dire un mecenate che dice ma sì buttiamo sti soldi perché voglio che insomma i fan italiani quindi dubito però mai dire mai mai dire mai sì mai dire mai anche perché dovresti doppiare probabilmente in tutte le lingue a quel punto c'è in teoria i corrispettivi doppiatori delle altre lingue che però io li ho sentiti in una serata sul mio canale twitch feci un ascolto una reaction a tutti i doppiaggi di ACP che è oltre 8000 no? sai la scena in cui lo scouter in tutte le altre lingue ci sono delle lingue che sono veramente imbarazzanti ma non è la lingua sono proprio recitate male proprio non ce n'è quindi lo sentite in polacco in portoghese in iraniano in e ci sono delle robe pazzesche quindi insomma io sai che questa cosa l'ho notata tantissimo ci sono molti americani che si mettono a a curiosare tra le clip italiane perché magari cercano una scena di Dragon Ball che vogliono vedere non la trovano in inglese e allora optano per versioni straniere e a volte ci sono degli americani che tutte le volte che commentano un video dobbiato in italiano di un anime almeno al 90% fanno i complimenti ai doppiatori sempre categoricamente perché a quanto pare sentono boh vai a sapere più recitazione più intensità la percepiscono nonostante non sia non sia la loro lingua boh bello però una bella soddisfazione secondo me sì perché una delle ragioni per cui il doppiaggio italiano comunque alla fine quella classica frase che si dice noi siamo i migliori al mondo eccetera è probabilmente il fatto che noi ci andiamo ci siamo sempre andati molto di fino nel senso che io stesso quando insegno doppiare dico guarda il sopracciglio guarda che ha mosso la spalla guarda che si è girato guarda che ogni cosa fa parte della recitazione quindi non è una spalma una mano così capito di vernice noi andiamo di stucco veneziano non so come dire certo certo ci andiamo di dettaglio fico e ti voglio fare un'ultima domanda sul futuro perché è la cosa più importante al momento dato che adesso c'è una rivalutazione completa del mondo anime e manga e dato che comunque si continuano a comprare robe nuove sia sul fronte manga che sul fronte anime secondo te i doppiatori degli anime riusciranno a raggiungere la notorietà di magari doppiatori giapponesi perché lì sai autografi conferenze salamelechi tappeti rossi ma anche qua ho visto una differenza netta tra magari le fiere di 15 anni fa anzi 20 anni fa perché le frequento da 20 anni e le fiere di oggi dove voi venite continuamente invitati elogiati giustamente intervistati secondo te c'è ancora la possibilità di un ingigantimento alla notorietà dei doppiatori italiani degli anime oppure oppure no e siamo destinati a vedere prodotti lingua originale in futuro ma guarda che poi anche questo è un argomento che meriterebbe una live a parte ma secondo me il doppiaggio per adesso terrabotta intanto per rispondere alla cosa questione originale o no perché comunque gente a cui piace il doppiaggio italiano anche se c'è chi se lo guarda in giapponese perché gli piace ma insomma vabbè si possono fare entrambe le cose ecco quindi secondo me il doppiaggio terrabotta ancora per un bel po' l'unico rischio è proprio quello di cui parlavamo prima cioè a forza di andare veloci a forza di sottovalutare certi prodotti si rischia di perdere poi terreno nel tempo quindi bisogna stare molto attenti soprattutto a chi ha la responsabilità di avere i diritti in mano di questi prodotti farli doppiare a chi farli doppiare eccetera di tenerli cari perché a volte si sottovaluta invece il grosso potere che hanno questi prodotti cioè sono molto belli arrivano a tantissime persone in questo momento non bruciamoceli questo lo dico alle persone che si occupano anche di questo e a volte lo fanno se non verranno bruciati anzi verranno valorizzati cosa che spero allora sì che non ti dico come in Giappone che è la patria degli anime in assoluto però secondo me è una cosa destinata a crescere perché io stesso in questi ultimi anni da quando andavo alle fiere la prima fiera che avrò fatto non so dieci anni fa non mi ricordo più alle ultime ho visto un aumento di entusiasmo di fidelizzazione di veramente di una passione che io alle volte cioè quando mi guardano negli occhi mi dicono perché tu sei la mia infanzia ma così no che io dico oh allora mi uccide mi vanno lo so assassino di John Landon però esatto e quindi wow cioè un'empatia è un'emozione che spero possa soltanto crescere in positivo ovviamente senza nessuna roba John Landon però spero che diventi una cosa insomma sempre più figa ecco bello speriamo lo spero anch'io anche perché sinceramente quando guardo una serie animata doppiata in giapponese sì è figo guardare l'originale però è bello che i personaggi doppiati in italiano siano i tuoi personaggi no cioè personaggi con cui cresci che segui per esempio penso al doppiaggio One Punch Man è fighissimo lo sono visto in originale è molto interessante ma in italiano soprattutto che grazie a Dio ci hanno messo le parolacce è bello lo senti di più lo senti più tuo io vorrei vedere Giorgio doppiato domani mattina anche con te dentro magari ti si può madonna te saresti perfetto per almeno 50 personaggi lì dentro però sarebbe fighissimo insomma vedremo speriamo speriamo e ci puoi lasciare se te lo posso chiedere ovviamente perché anche qui credo ti abbiano scassato i coglioni Gianluca a dismisura però con un ricordo di Torrisi so che hai ti sei sperticato nel video su youtube con tutta l'intera storia però mi piacerebbe raccontare magari infatti raccontare un aneddoto un inedito magari com'è stato il momento in cui sei stato chiamato per doppiare Dragon Ball intanto mi ricordo le poche volte perché lui facendo la direzione spesso le cose di Goku poi se le faceva da solo cioè con qualcun altro magari da fuori che lo aiutava a dirigersi eccetera mi ricordo intanto le poche volte in cui è successo di andare a leggere insieme io e lui no? e devo dire che le conservo con grandissimo affetto perché perché poi col senno di poi quei momenti lì sono epici sono epici perché sono momenti veramente iconici cioè Vegeta e Goku al microfono e quando doppiavamo insieme io me lo ricordo ancora ti ricordi che scena era? wow allora se fosse stata la fusione sarebbe stata infatti io mi ricordo che quelli della fusione anche se poi per la maggior parte la voce poi si decise di tenere solo la sua e di non fare la doppia voce credo per una questione tecnica anche perché all'epoca il computer non era come oggi infatti adesso con Moneta in Dragon Ball Super facciamo la voce insieme invece all'epoca no però mi ricordo dei momenti proprio della fusione in cui lui faceva dei pezzi da solo e poi c'erano anche i miei pezzi prima dopo eccetera eccetera e quelli sì credo che siano proprio quelli i momenti in cui abbiamo fatto delle cose insieme a Leggio e vabbè devo dire che da questo punto di vista ho avuto un gran culo a poter fare questa cosa perché comunque è assolutamente iconica per posso dire milioni di italiani a questo punto perché gli amanti di Dragon Ball sono tantissimi questo e poi vabbè tanti altri aneddoti uno che non c'entra con Dragon Ball ma te lo racconto di salutarci che feci una serie che si chiama Vicini Troppo Vicini no? sempre della Mediaset ed è secondo me una serie presa un po' per errore nel senso che quando vanno sai tipo a Los Angeles prendono un po' di serie e ce ne sono altre attaccate no? questo Vicini Troppo Vicini che sembra una roba per bambini fatta per Italia 1 carina eccetera il mio personaggio era una sorta di figura transgender diciamo così te lo dico superficialmente era un alieno perché però era un po' donna un po' uomo non si capiva bene e in una puntata tutta la puntata sul fatto che il mio personaggio aveva le mestruazioni e quindi era un casino e la direzione la faceva Torres la faceva Torrisi per cui mi ricordo lui diceva e adesso cosa facciamo? c'è la sua disperazione al dire adesso com'è a cambiare tutto per cui sai c'è tipo il mio personaggio che diceva oddio ho fatto un casino in bagno e come la giustifichi sta cosa? bisogna inventare delle cose che fossero un'altra cosa perché sennò poi perché ovviamente Mediaset di quegli anni per quello io sorrido e rido perché penso transgender le mestruazioni è su una su una rete dove non si fa non c'era niente che si poteva fare almeno in quell'episodo sicuro no per cui è stato molto divertente si censurava tutto figuriamoci una roba del genere penso sia stato un iceberg vabbè comunque da prendere col cucchiaino tra l'altro la sigla originale la faceva Iggy Pop mica uno stronzo qualunque per cui bellissima anche quella io lo ricordo con a Fett era molto strano weird però è bello bello era ganzissimo un delirio puro psichedelico anarchico bello interessante sta niente beh comunque vi hanno sovrapposto le voci nel film di Janemba il diabolico guerriero degli inferi voi ci avete Gogeta sovrapposto che ci avete le voci sovrapposte in Gogeta quando avete ridoppiato tutti i film lì sì lì sì è vero lì lo abbiamo fatto che era stato un po' dopo le doppiamo dopo Dragon Ball Z perché c'erano dei film che erano stati doppiati in precedenza mi sembra alla fine degli anni 80 da dei colleghi romani e poi diciamo che poi dopo Dragon Ball Z e GT e compagnia bella ovvio che ormai diventava di dovere farlo noi perché nella mente di tutti ormai le voci erano le nostre quindi sono stati i propri di film e quindi sì lì era successa quella cosa lì è vero hai ragione in quel caso abbiamo fatto voce dopo che poi ci avete due battute però va bene per noi era l'apice però bellissimo Gianluca io ti ringrazio è stata un'oretta scarsa diciamo però molto interessante molto densa e ti auguro in bocca al lupo per tutto per questo spettacolo teatrale tieni ci aggiornati io ringrazio te ringrazio voi vabbè ovviamente sono su Twitch da un annetto quindi se volete passare a trovarmi sono in live purtroppo non tanto quanto mi piacerebbe perché i tempi sono quelli che sono il tempo è quello che è quindi ci sono o il martedì o il mercoledì in cui leggo anche dei manga tra l'altro oppure a volte il sabato ho qualche ospite anche collega doppiatore o altri poi sono ovviamente su Instagram e su Facebook nella pagina artisti e pure su TikTok ormai perché d'obbligo seguiamo il trend ma fai bene non tutti farebbero quello che stai facendo te cioè di attraversare un po' tutte le piattaforme ti ringrazio Gianluca ti abbraccio ti abbraccio forte ciao 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 a tutti ti aspetto ciao